Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti all'anteprima del nostro telegiornale, il nostro ospite è l'assessore comunale alle politiche sociali e questa è la denominazione. Politiche sociali e welfare, questa è completa e sei perfetto. Sociali e welfare del comune, Massimo Tognoli che ringrazio per essere appunto tornato nei nostri studi. Grazie a te caro Umberto, buongiorno, grazie per questo invito. Si può ancora dire buona continuazione d'anno ovviamente a te, a Telequattro e a tutte le nostre telespettatrici e telespettatori e soprattutto porto il saluto e l'augurio non solo e soltanto mio ma di tutta la squadra dei servizi sociali di Trieste. Allora io già che ci siamo allora incomincio con quello che avrei voluto chiedere alla fine ma lo faccio adesso insomma. Insieme è lo slogan, è la parola d'ordine dell'assessorato, partiamo dall'esperienza di quello spettacolo credo forse alla fine, a metà ottobre. 17 ottobre. 17 ottobre al Rossetti, quella è un po' la chiave di volta. Sì, insieme è un termine che sintetizza un po' quello che è il lavoro, una parola che sintetizza il lavoro, dei servizi sociali, le attività e anche alcune priorità che ci siamo dati. Ricordiamo la bellissima serata, era il 17 ottobre scorso, la serata dei servizi sociali in cui i servizi sociali hanno parlato alla città e ce la ricordiamo davvero come la serata dell'emozione e della commozione. Tu, abbiamo avuto l'onore di averti come presentatore, avrai percepito davvero l'emozione e i tanti occhi lucidi nelle persone che erano presenti, che si sono trasformate poi in una richiesta di ripetere quella serata. Quindi sei partito effettivamente dall'argomento più fresco perché è di poche ore fa la notizia che ci sarà insieme due, insieme 20-24, ovvero sia una serata analoga alla precedente, si svolgerà domenica 27 ottobre, stabiliremo l'orario però, domenica 27 ottobre insieme 2024 che avrà le stesse caratteristiche del primo insieme. Quello spirito un po' garibaldino, quello spirito autentico che ha caratterizzato quella prima serata, sempre con assoluti protagonisti sul palco, oltre a te, approfitto per porgerti l'invito ovviamente, perché squadra che vince non si cambia e la tua presenza, quella di Paolo Guazzolo e di tanti davvero amici è stata importante, ma soprattutto sul palco avremo le persone con fragilità, con disabilità, loro devono essere i protagonisti assoluti di quella serata. Allora, quale bilancio si può tracciare dell'attività dell'assessorato per lo scorso anno ed eventualmente poi, partendo da tutto ciò, quali potrebbero essere le prospettive per il 2024? Il 2023 è stato un anno estremamente impegnativo, un anno di grande lavoro, ma questo va bene, perché questa è l'attività dei servizi sociali. Partiamo dai numeri. Fine 2023 abbiamo superato le 14 mila persone che i servizi sociali hanno in carico. Parliamo di persone che presentano disabilità, fragilità o che comunque esprimono una qualche forma di disagio. 14 mila persone sono tante, ma pensiamo a un'altra cosa. Pensiamo che quando tu aiuti una persona con disabilità aiuti la sua famiglia, aiuti la sua piccola cerchia amicale, per cui possiamo ben dire che l'azione dei servizi sociali nel 2023 ha provato a migliorare la qualità della vita a oltre 50 mila nostri concittadini. È un numero rilevante, 50 mila su 200 mila e ci dice una cosa alla quale secondo me va prestata grande attenzione. Mentre dal punto di vista demografico spesso le nostre città vedono una contrazione del numero di abitanti, questa del sociale che è un po' una città nella città, 50 mila persone, ecco che vede i suoi abitanti in costante aumento per varie ragioni, alcune molto positive perché si sta ovviamente allungando la vita, quindi il numero delle persone anziane è in costante aumento e gli anziani sono uno dei pilastri dei servizi sociali. Ma poi aumenta anche la sensibilità che noi abbiamo verso questi temi, per cui la certezza è che queste 50 mila persone tenderanno ad aumentare sempre di più. Una città nella città che richiede quindi per essere gestita di una visione sì complessiva, sì tattica, ma anche e soprattutto strategica, che guardi anche un po' al dopo di noi, perché gli assessori passano ma i temi della disabilità, della fragilità, questi rimangono, quindi a noi è richiesto di costruire un qualcosa che poi veda i suoi frutti anche dopo di noi, per questo la visione strategica è fondamentale. Come anche, visto che hai parlato di bilancio, sono fondamentali le risorse, perché la visione è importante, ma senza risorse ovviamente è tutto molto più difficile. Come si chiude l'anno? Il bilancio è intanto andato bene, perché il Comune di Trieste ha approvato il bilancio nei tempi previsti, quindi entro la fine del 2023. Ma per quanto riguarda la parte di mia competenza, quindi i servizi sociali, in particolar modo missione 12 del bilancio sociale, parliamo di 125 milioni di Euro per il 2024. Sembrano pochi in Euro, sono 242 miliardi delle vecchie lire. È un importo rilevante, poi se noi lo decliniamo un po' nelle varie famiglie che compongono questo bilancio, comprendiamo di quanto il nostro Comune dedichi cura, attenzione e risorse a questo tema. Parliamo di 26 milioni di Euro per l'area della disabilità, parliamo di 25 milioni di Euro per quanto riguarda i minori, 23 milioni di Euro per gli anziani, tutti importi in crescita anno su anno. Detto questo, per essere molto concreti e pragmatici, tutto questo basta? No, non basta. Non basta perché mentre le risorse sono tante, ma la richiesta è un forte aumento. Guarda, io se posso ti cito un esempio che mi pare molto molto chiaro, ed è un esempio sul quale noi stiamo lavorando veramente da tanto tempo per cercare di migliorare quanto più possibile e soddisfare le richieste dei nostri concittadini. Mi riferisco al supporto scolastico ed extrascolastico. Ahimè, me ne dispiace molto, noi quest'anno abbiamo attivato per una decina di ragazzi questo supporto con un po' di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Parliamo del 2023-2024 come anno scolastico. Esattamente, quindi alcuni abbiamo attivati veramente qualche settimana fa. Dispiace molto, perché anche se sono una decina di casi, anche il singolo caso dispiace. Però ricordiamo quello che è il panorama complessivo. Anche qui ci aiutano i numeri. Il Comune di Trieste dedica nel 2024 7 milioni di euro al supporto scolastico ed extrascolastico. 7 milioni di euro, quasi un milione di euro in più rispetto a inizio 2023. Come vengono spesi questi soldi? Come si trasformano questi soldi in supporto? Si trasformano in questo modo. 7500 ore settimanali di supporto a bambini e ragazzi. 7500 ore settimanali. 238 educatori che sul campo e sul territorio e nelle scuole e nei ricreatori e in tutte le varie strutture che compongono questo servizio, 238 educatori. Una macchina complessa che però vede un incremento importante delle richieste. Qualche anno fa erano 460 i ragazzi e i bambini certificati, comma 1, comma 3. 460. Nostra proiezione 2024, 750. Addirittura anno su anno, 23 su 24, abbiamo 80 bambini e ragazzi in più. Sono numeri davvero importanti e che richiedono quindi delle risorse che sono in costante aumento. Questo per dire che però quante più risorse tu metti a disposizione, economiche ma anche umane, non sempre basta per soddisfare la richiesta dalla parte dei cittadini. C'è un altro argomento di cui molto si parla in questo periodo ed è collegato ad un'altra serie di argomenti. Per esempio il piano freddo. Qui c'è stata una sorta di, come posso dire, l'obiettivo si è modificato rispetto agli anni scorsi. Adesso forse non è corretta come sintesi, però c'era un piano freddo, emergenza freddo. Parliamo di una settantina di posti in più che erano stati messi a disposizione proprio all'arrivo della stagione fredda. Sono stati tutti stabilizzati nel corso dell'anno, anzi ancora di più, per cui il totale delle persone che qui viene data cura e attenzione in questo senso oggi sono oltre 200. Ti dico un numero importante perché è quadruplicato negli ultimi 4-5 anni. Quindi l'emergenza freddo è stata stabilizzata costantemente durante i mesi freddi ma anche nei mesi caldi. Sì perché questo è anche un piano che appunto non riguarda soltanto i mesi invernali oggettivamente. E c'è appunto anche il problema dei senza tetto. Quello non può risolverlo solamente l'assessorato. Perché? Perché è un problema complesso che riguarda parecchi aspetti. Come vi muovete in tal senso? L'assessorato dei servizi sociali si occupa in maniera generale e particolare del tema delle persone senza dimora, ma è chiaro che se parliamo del 2023 e temo anche il 2024, il nostro focus, perché questa è la competenza diretta che abbiamo, è stata quella dei minori stranieri non accompagnati. Perché ricordiamo che il tema migranti, chiamiamolo così, anche se a me il termine piace poco perché gli animaletti migrano. Per le persone mi piacerebbe che ci fosse un lessico un po' diverso. Però chiamiamolo ancora una volta così, questo tema in termini competenziali in capo ovviamente alla Prefettura con la quale abbiamo un'ottima collaborazione così come con la Questura. Però il tema nostro, proprio quello che spetta al Sindaco ovviamente, e quindi per delega ai servizi sociali, è quello dei minori stranieri non accompagnati. Perché? Perché questo tema sarebbe di competenza delle strutture governative, che però non essendoci a Trieste diventa un tema nostro. Perché dico che è un tema importante? Perché anche qui abbiamo registrato nel corso dell'anno dei numeri esponenzialmente più elevati rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno erano 692, abbiamo chiuso il 2023 a quota 1014 ragazzi che sono stati intercettati alla frontiera, dopodiché se ne fa carico il servizio sociale seguendo quelli che sono i protocolli. Sono numeri davvero molto importanti. In certe settimane estive abbiamo avuto 80 casi. Questi sono bambini, bambini, ragazzi, scusa, più che bambini perché sono adolescenti, che vengono da paesi come il Pakistan, come l'Afghanistan, per cui parliamo di casi molto particolari, arrivano qui dopo aver camminato per tanto tempo. Quindi sono situazioni che scuotono la nostra quotidianità perché dobbiamo essere a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, ma scuotono ovviamente anche le nostre coscienze. Di questi 1014 cui ti dicevo dato fine 2023, non tutti rimangono, una buona parte si allontana, però restano comunque in carico a noi. In questo momento sono circa 320. Durante il corso degli ultimi sei mesi sono oscillati dai 200 fino a raggiungere addirittura le 500 unità. Adesso sono 320 e sono in carico a noi. È un tema, è un tema oggi, ma è un tema credo che riguarderà anche il prossimo anno. E ti dirò, io alcuni giorni fa ho organizzato un incontro con dei docenti dell'Università di Bologna e del King's College di Londra. È utile confrontarsi su questi temi che sono temi che poi non riguardano, riguardano l'effetto di questi temi riguardo alla nostra città. In realtà sono temi a livello macro, sono temi di geopolitica per cui in realtà è importante apprendere anche da chi studia questo tipo di attività. E ti posso dire che se è vero che Trieste è sempre stato un mosaico, un crogiolo di culture, ma è chiaro che questo tipo di fenomeno, quindi pakistani, afghani, che vengono da noi per tutta una serie di motivazioni, anche belliche, ecco nulla ha a che vedere con il crogiolo di culture di cui Trieste si fa sicuramente preziosa, che è quella della nostra comunità ebraica, della minoranza slovena. Noi abbiamo delle culture che fanno ricca la nostra città. Questo è un fenomeno diverso, spesso di carattere emergenziale. Ecco, ultimissima domanda, abbiamo un minuto. Quando si accolgono, quando ci si prende cura dei minori non accompagnati, che cosa significa? Immagino che non sia soltanto trovare loro una sistemazione. Bisogna anzitutto, una volta che le forze dell'ordine ci contattano, questi vengono affidati, qualche volta sono stati affidati anche a collaboratori dei servizi sociali, quindi se li sono presi in carico, dopodiché vengono portati in strutture che sono accreditate, ma qualche volta causa emergenza, queste strutture sono state anche alberghi. Questa è la realtà. Quindi ti posso dire con un costo notevole, anche qui esprimo in termini economici un tema che in realtà è umano, però è giusto farlo. Minori stranieri non accompagnati hanno comportato per la collettività nel 2023 un investimento di oltre 10 milioni di euro, con fondi governativi, con fondi della regione ovviamente, però non ha importanza, sono comunque fondi della collettività. Questo è il tema, 10 milioni di euro per oltre mille ragazzi arrivati a Trieste. Allora, io ringrazio l'assessore comunale alle politiche sociali e welfare Massimo Tognoli per essere stato con noi. Ripetiamo già, magari qualcuno potrebbe dire forse un po' troppo presto, però l'appuntamento con Insieme torna quest'anno nell'ottobre del 2024, il 27 ottobre è una domenica e il tema è appunto quello di lavorare insieme e anche di lavorare per. Assolutamente sì, lavorare tutti assieme perché il tema dei servizi sociali riguarda tutti, io amo dire che tutti siamo all'interno del sociale. Grazie all'assessore Tognoli, buon lavoro davvero, adesso andiamo un po' in pubblicità, poi torniamo per il telegiornale delle 13.20, in realtà mi pare di capire che ho ancora 20 secondi, vi dico gli ospiti di Ring, ci saranno Niccolò Giraldi, Gianpaolo Sarti e Claudio Sterpin per parlare del caso Resinovici assieme anche al nostro Gianluca Paladine, poi si parlerà di sanità con l'assessore Riccardo Riccardi. Grazie a tutti, dopo la pubblicità il telegiornale, grazie Assessore per essere stato con noi. Grazie a te. Telespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, caso Varsila in apertura, l'annunciato avvio della procedura di dismissione è arrivato ieri sera con una nota della dirigenza aziendale che ha anche invitato i 300 lavoratori a rimanere a casa fino alla fine del mese. Riunioni sindacali in corso in vista dell'assemblea di domani pomeriggio. Noi ci attendiamo, rispetto al comportamento assunto da Varsila, che nelle prossime ore, se non oggi, domani, arrivi l'avvio della cosiddetta fase di consultazione propedeutica alla procedura di licenziamento dei lavoratori. Come previsto dai sindacati presenti al tavolo romano, Varsila dunque ha avviato la dismissione dello stabilimento di Bagnoli lasciando a casa i dipendenti per il momento fino al 31 gennaio. Ieri sera, poco dopo le 20.30, l'azienda ha diramato una nota annunciando l'avvio dell'iter informativo previsto proprio dalla procedura di stop alla produzione regolata dalla legge 234 del 21. Dopo che i rimattina i lavoratori erano entrati regolarmente in fabbrica, nel corso della giornata i vertici aziendali, attraverso mail e avvisi nelle bacheche di fabbrica, li hanno invitati a rimanere a casa fino a fine mese. In queste ore sono in corso riunioni con i rappresentanti sindacali anche in vista dell'assemblea prevista per domani pomeriggio. Da ricordare che durante l'intero periodo dell'informativa e della procedura, in tutto otto mesi, Varsila Italia è tenuta a pagare integralmente gli stipendi e i dipendenti coinvolti nel processo di dismissione. Nella nota diramata ieri la società assicura di voler continuare a sostenere attivamente il processo di reindustrializzazione e a cercare altre alternative ai licenziamenti come parte del piano di mitigazione previsto dalla legge. Ma di fatto ribadisce il secco no giunto dai vertici finlandesi al tavolo ministeriale alla proroga degli ammortizzatori sociali che supportavano il reddito di circa 300 lavoratori dall'agosto dell'anno scorso, ovvero dal completamento dell'ultimo motore realizzato dentro lo stabilimento di Bagnoli fino allo scorso 31 dicembre. Lavoratori per i quali ora si apre lo scenario peggiore, quello del licenziamento. Ora il commento sul caso Varsila del sindaco di Piazza. Perché il rischio di trovare tante persone a casa è molto concreto. Innanzitutto io con Varsila mi sto occupando attraverso imprenditori, tutti si stanno occupando per cercare, come è successo al suo tempo con la BAT, ti ricordi compriamo i 20 ettari e poi arriva la BAT e abbiamo visto quello che è successo. Il Varsila veramente mi stanno un po' sulle scatole, l'ho detto a tutti, ci stiamo attivando, il problema sono i 300 lavoratori più l'indotto, però stiamo lavorando e tutti stanno cercando un'alternativa perché il sito è straordinario, a 500 metri dell'autostrada con la ferrovia eccetera, potremmo fare quello che abbiamo fatto con BAT, British American Tobacco, sono arrivati e hanno investito 500 milioni. Stasera alle 21.10 l'appuntamento con Ring, si parlerà del caso Resinovic con Niccolo Giraldi, Gian Paolo Sarti, Claudio Sterpin, il nostro Gianluca Paladin, quindi come cambierà la sanità? Intervista con l'assessore regionale Riccardo Riccardi. Campus studentesco nell'ex caserma di Via Rossetti, quest'oggi l'assessore alle autonomie locali per Paolo Roberti ha spiegato nel dettaglio i prossimi passi operativi con lo sblocco dell'acquisto dall'area da parte da Cassa Depositi e Prestiti. C'è stata anche un'altra iniziativa importantissima che è quella sul campus di Via Rossetti, iniziativa di cui si parla da tanti anni ma che vedrà sicuramente la luce nei prossimi mesi. E la svolta chiave per passare dalle interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti, titolare dell'ex caserma Vittorio Emanuele III, all'acquisto dell'intera struttura e l'avvio del progetto per il campus scolastico universitario di Via Rossetti a Trieste. E l'intervento della regione anticipato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli dopo l'approvazione della finanziaria, oggi spiegato nei dettagli dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Abbiamo deciso, non riuscita quella trattativa con il Comune di Trieste che tentava di strapparlo a Cassa Depositi e Prestiti, rimettere ulteriori risorse, quindi a quei 10 milioni già stanziati stanziamo ulteriori 5 milioni più altre risorse già in capo all'ente di decentramento regionale per completare l'acquisto e in accordo con il Comune di Trieste ci sono già alcune risorse per i primi 5 milioni di euro per cominciare i primi interventi su quell'area che dovrà diventare un campus per gli studenti di Trieste con tutti i servizi condivisi. A Cassa Depositi e Prestiti andranno complessivamente così 17 milioni e mezzo di euro, i 5 milioni già accantonati serviranno a realizzare le opere di progettazione, sgombero, messe in sicurezza e i primi lavori sui manufatti. In prospettiva di 7 mila studenti che potrebbero prendere posto all'interno dei diversi plessi, si prospetta anche un imponente lavoro di riprogettazione della viabilità in zona che si estende per 9 ettari tra via Rossetti, via Mameli, via Revoltella, via D'Angeli, ora recintata per quasi 2 chilometri. A breve partiranno una serie di consultazioni con sistema scolastico e università per capire quali edifici e facoltà hanno le maggiori urgenze di cambiare sede. All'interno, oltre a palestre e spazi sportivi esterni, troveranno posto anche case dello studente per ospitare gli universitari fuori sede. Questo ci permetterà da una parte di rendere più efficiente l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole superiori, ma anche universitarie, perché dovrà esserci un coinvolgimento anche da parte dell'Università di Trieste e di Ardis in quel compendio, dall'altra anche di offrire un'offerta migliore a quegli studenti che a quel punto avranno strutture nuove, adeguate, non più instabili, dove è difficile intervenire. Notizia di servizio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea per i cittadini ucraini. I soggetti interessati per il rinnovo del permesso dovranno compilare il kit postale presente presso gli uffici postali senza doversi recare in questura. Ora siamo collegati con l'Ispettore Roberti per il consueto collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno, anche no, buongiorno l'Ispettore Capo Leonardo e Roberto. Ah, Roberto, abbia pazienza, chiedo scusi, sembra un po' strano per dire la verità quando mi hanno detto c'è in linea l'Ispettore Roberti, però insomma nulla vieta che un suo collega si chiami Roberti. Allora siamo in compagnia dell'Ispettore Roberto Leonardo. Buongiorno Ispettore. Con molta gioia che le devo dire che oggi niente in atto di particolare, mattinata tutto sommato nella norma, manifestazioni particolari per il pomeriggio non ve ne sono, l'unica cosa che riguarda un po' la viabilità esterna, la galleria di Catenara chiusa dall'8 del 1 al 24 del 2 in orario 20 e 30, 6 e 30 per lavori appunto da parte dell'ANAS. Per il resto proprio altre cose che dovrei comunicarvi per la giornata di oggi, proprio non ve ne sono. Allora io ringrazio l'Ispettore Capo Roberto Leonardo per essersi collegato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio, salve. Passiamo adesso al prossimo servizio che riguarda la riqualificazione di Piazza della Libertà, quest'oggi il progetto è stato illustrato, è un progetto che riguarda soprattutto la zona resa, diciamo così, libera dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic. Un piccolo pezzo di carso in pieno centro città a occupare la piazza antistante la stazione delle autocorriere in Largo Città di Santos, quella per intenderci dove sorgeva la Sala Tripkovic. È il progetto presentato oggi in municipio dal sindaco di piazza, assieme all'assessore comunale Lisa Lodi, lì all'assessore regionale e alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Fa autore dello stanziamento di 2.700.000 euro circa grazie alla legge di stabilità 2024 del Friuli Venezia Giulia. Fondi che permetteranno l'avvio di uno spaccato carsico urbano, un micro paesaggio così definito in cui far emergere la roccia carsica, definito Occhio di Massimiliano. È molto bello perché con Kippar, che è l'architetto, a suo tempo lui inventa l'Occhio di Massimiliano, c'era ancora la Sala Tripkovic in piedi. Cosa abbiamo deciso? Di fare un pezzo di carso in maniera che uno che arriva a Trieste col treno si ritrova davanti questa piazza con un pezzo di carso e così saprà anche che c'è il carso, molti arrivano a Trieste e non vanno su in questa zona straordinaria. Nel tutto contemplando il mantenimento della visibilità dei portali storici, quello complessivo della piazza e adeguati percorsi pedonali, il collegamento con la ciclabile delle rive e la stazione ferroviaria, il futuro collegamento con i viali di Porto Vivo, il mantenimento delle alberature esistenti, un richiamo alla presenza del sotterraneo torrente chiave. Dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic la progettazione è stata affidata all'architetto Andrea Schipar per la redazione di un progetto complessivo di concerto con la soprintendenza. Ciò che l'architetto Schipar vuole portare in quella piazza è il carso, ovvero attraverso appiantumazioni, alberature. La massima importanza viene data a far apparire ovviamente i portali del Porto Vecchio che già esistono e a dare continuità col parco lineare del Porto Vivo, quindi andare in continuità. Valuteremo ovviamente se inserire anche arredi e sarà una valutazione che riguarderà quindi questo step successivo che affronteremo nelle prossime settimane. Nel contesto stride la situazione del Silos e la gestione dei migranti accampati all'addiaccio. Il pubblico sta facendo la sua parte, sta facendo di tutto e di più per riqualificare non solo quell'area ma tutta la città di Trieste e tutta la regione. È chiaro che non possiamo sostituirci al privato, quindi se un edificio è privato e il privato non ha per tanti anni investito un centesimo e l'ha lasciato in stato d'abbandono, l'unica cosa che possiamo fare è sperare che quella trattativa per la vendita si concluda quanto prima e che ci sia la possibilità di vedere utilizzata quell'area per non lasciarla in abbandono. Tanto la soluzione immediata sono trasferimenti come già accaduto. Prosegue quella politica di trasferimenti, bene anche perché abbiamo una situazione che è esplosiva e che non può essere tollerata da nessuna parte ma in particolare in un città come Trieste. Il dibattito politico a Trieste intanto torna a focalizzarsi sullo stadio. Dopo quello che è accaduto nell'ultimo consiglio Riccardo ha dimostrato adesso un suddito di russo. Sulla questione del Rocco purtroppo è evidente che la maggioranza non sa più che pesci pigliare quindi non resta che fare polemica inutile. L'indisponibilità dello stadio Rocco per le eventuali gare di playoff della Triestina torna a diventare terreno di scontro politico. E' successo nella riunione dei capigruppo del consiglio comunale di ieri quando adesso Trieste per voce del capogruppo Riccardo Laterza ha chiesto di discutere con urgenza la mozione in materia presentata tre mesi fa. Effettivamente hanno passato i tre mesi quindi bisognava un po' leggerla. Quando io e il consigliere polacco abbiamo chiesto di rinviarla alla prossima capigruppo conto meno per dare una possibilità in più a questa mozione e lui ha detto no. Evidentemente era assolutamente una mera strumentalizzazione perché in realtà la mozione ormai era antica. Le cose che diceva nella mozione sono abbondantemente superate quindi in realtà io sono rimasto un po' male perché si dimostra ancora una volta come lui non ci teneva davvero alla mozione ma voleva semplicemente avere due righine sui giornali. Di parere diametralmente opposto il leader di adesso Trieste secondo cui l'urgenza della mozione è ulteriormente alimentata dall'assenza di una soluzione in materia. Abbiamo chiesto che venissero date delle garanzie chiare alla Triestina sull'utilizzo dello stadio Rocco nel corso della fase degli eventuali playoff e poi su richiesta del sindaco di piazza che ci aveva detto che avrebbe avuto delle importanti novità a giorni sulla gestione dello stadio Rocco abbiamo deciso di sospendere la mozione. Abbiamo atteso, abbiamo atteso tre mesi, ci sembra che non tanto noi ma tutta la città, la società e i tifosi abbiano atteso già abbastanza e quindi abbiamo deciso proprio nel capigruppo di ieri di sbloccare questa mozione. Il centrodestra ha bocciato l'urgenza di questa mozione e questo significa che per il centrodestra per la maggioranza il tema non è urgente. Secondo Medao invece la presa d'atto che i concerti di Ultimo e Pezzali si faranno a Rocco con biglietti già venduti per il 2-9 giugno in date non compatibili con gli spareggi promozione avrebbe già di fatto risposto ai quesiti dell'opposizione. Ormai i biglietti sono venduti, i concerti, quindi in realtà questa è la realtà. Secondo la terza invece rimane il nodo dell'assenza di una soluzione da parte della giunta comunale sia nel merito che più in generale nella gestione degli eventi. evidenzia anche l'incapacità o forse la non volontà, adesso non lo so, non voglio entrare nel merito però l'incapacità di questa maggioranza a gestire in maniera adeguata la città non riguarda solo lo Stadio Rocco, anche se lo Stadio Rocco forse è l'esempio più evidente. Andiamo in pubblicità poi torniamo con ancora servizi. Rientriamo in studio. Un'area di circa 60.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro nella laguna friulana nell'ambito di alcuni controlli in materie ambientali svolti dalla Guardia Costiera e dell'Ufficio Marittimo di Lignano Sabiadoro nei confronti di un'attività di acquacultura con metodo biologico. sequestrati anche circa 10.141 metri cubi di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio dei canali. Dal controllo effettuato con Arpa, Friuli Venezia Giulia e Comune di Latisana sotto il coordinamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado è emerso che negli ultimi anni la società aveva svolto attività di dragaggio dei canali senza effettuare le procedure di caratterizzazione e di verifica della compatibilità ambientale prevista dal piano regionale tutela delle acque. L'area sequestrata ricade all'interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelato dalla rete Natura 2000 rientrante nelle più ampie zone protette come la zona di protezione speciale e la zona speciale di conservazione. L'operazione è il frutto di una complessa attività di indagine e risultano ancora in corso accertamenti per definire eventuali e ulteriori danni all'ambiente che l'attività di dragaggio dei canali con conseguente rimodellamento degli argini potrebbe aver provocato all'ecosistema lagunare. E all'ecosistema marino degli esiti delle indagini è stata informata la competente autorità giudiziaria di Udine. I lavori al tetto della tribuna di Campo Colonia partiranno a breve non appena la Bora cesserà di soffiare con l'intensità di questi giorni a confermarlo l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Saranno tempestivi i lavori di ripristino del tetto della tribuna di Campo Colonia dopo i danni provocati da Bora. Confermarlo l'assessore comunale alle gestioni degli impianti sportivi Elisa Lodi dopo aver preso coscienza dell'accaduto. Nella temporanea chiusura alle attività dell'atletica al draghicchio pesa in termini di attività sportive ed è proprio ciò che il municipio vuole scongiurare quanto prima per non ritrovarsi in una situazione simile a quella del Palachi Arbola con il dirottamento altrove di squadre e atleti. L'unica alternativa disponibile a oggi è identificabile nello stadio Grezzar con tutte le difficoltà del caso. Purtroppo la Bora ha creato questo danno alla copertura della tribuna e abbiamo già convocato l'impresa che verrà oggi presso i nostri uffici affinché si faccia l'intervento in tempi brevi. Abbiamo chiesto all'impresa di intervenire già entro questa settimana ovviamente non appena la Bora cessa perché l'intervento deve essere fatto in quota quindi oggi si prenderanno gli accordi con l'impresa per attivare l'elevatore che possa permettere quindi l'operazione di messa in sicurezza della tribuna e permettere successivamente abbiamo già avuto anche contatti con i vigili del fuoco la riapertura del draghicchio e quindi la piena fusione del campo di atletica. Quello di Campo Colonia è un capitolo che ha sempre rappresentato qualche difficoltà. Natura vuole che impianti che includono molte attività all'aperto necessitano di manutenzioni e aggiornamenti frequenti. L'assessore Lodi in tal senso ha ricordato gli investimenti eseguiti per dare continuità ad esibizioni, allenamenti e gare ufficiali. Abbiamo rifatto il campo di atletica completamente e abbiamo in piedi il progetto esecutivo per l'illuminazione da un altro milione di euro abbiamo ordinato la caldaia per quanto riguarda quindi il lato tennis per la cui sua nuova caldaia per la struttura abbiamo nel piano delle opere anche la riqualificazione della pavimentazione del campo di tennis gli interventi sono tanti la struttura è grande ma il nostro interesse è che il campo Colonia sia utilizzato il più possibile anche nell'orario pomeridiano e serale ovviamente il nostro interesse sarà continuare nella manutenzione purtroppo quello che è avvenuto è stato un problema relativo alla bora che ovviamente risolveremo in tempi brevi. Sarà in scena a partire da domani la nuova produzione del teatro stabile sloveno si intitola L'Epa Vida ovvero La Bella Vida e prende spunto da uno dei miti della letteratura slovena sul quale nel tempo hanno messo gli occhi parecchi autori quali ad esempio Presciren e Zankar. Quella di Vida è una delle più note leggende slovene il Cultur Nidom le dedica il prossimo spettacolo presentato oggi in scena in Via Petronio fino al 21 gennaio. L'Epa Vida è comunque un mito della letteratura slovena un archetipo insomma ma non solo anche per far capire a un pubblico che magari non conosce questa realtà già la Dama Bianca di Duino per esempio potrebbe essere una delle lepe vide o delle belle vide insomma che conosciamo dalle nostre parti. Nella versione riveduta e corretta da Stasha Prah diretta dal macedone Marian Nechar il mito subisce una profonda rivisitazione e diventa davvero universale raccontando la vicenda di una donna che abbandona il marito e il figlio per partire verso l'ignoto alla ricerca di una vita migliore. In fondo ragiona il direttore del teatro stabile sloveno Daniel Malalan di Vida la storia della nostra terra è piena. Stasha Prah ha cercato di comunque di trarre questa storia da più fonti non solamente da quella di Prescieren ma anche da quella di Zankar di altri autori che hanno trattato questo tema e questo personaggio e come detto si viene attualizzata il giorno di oggi quindi si parla di voglia di cambiamento di andare da qualche altra parte purtroppo anche lasciare dietro di sé la propria famiglia per ricercare una vita migliore. Lo spettacolo è anche un apologo sul desiderio delle cose che si amano e sulla perdita di tale desiderio ed è stato concepito come una sorta di musical ripropone sotto certi aspetti il tema della possibilità e del rischio di trattare un mito un'operazione complessa ed affascinante anche perché appunto si tratta di una vicenda che molti autori sloveni ha ispirato. C'è sempre un lieve livello di rischio quando uno comincia a trattare questo tema perché magari in questo immaginario collettivo tanti pensano che ormai abbiamo visto e sappiamo tutto però insomma secondo me ne è valsa la pena. Come sempre le repliche dello spettacolo saranno proposte con i sopratitoli in italiano. Alla caserma dei pompieri di via Dalviano i bambini del centro Un Villaggio per Crescere hanno visitato gli spazi del comando provinciale di Trieste. Tutta la gioia negli occhi dei bimbi stupefatti e pieni d'ammirazione mentre guardano i vigili del fuoco all'opera e magari chissà qualcuno di loro già sogna di diventare pompiere. Viaggio nella caserma di Trieste in via Dalviano i bambini del centro Un Villaggio per Crescere assieme ai propri genitori hanno avuto la possibilità di visitare il comando dei vigili del fuoco dai mezzi utilizzati per le uscite a quelli storici che raccontano il corpo dei pompieri dalla vestizione degli operatori prima di uscire dalla caserma per qualche emergenza al funzionamento delle varie strumentazioni e la possibilità ovviamente di sentirsi pompiere per un giorno. Come abbiamo fatto tutti quando eravamo piccoli il sogno maggiore era quello di diventare pompieri e quindi credo che questa sia un'opportunità che rimarrà a loro per tutta la vita quindi per noi è un'occasione un'occasione di aprirci alla cittadinanza aprirci come cerchiamo di fare sempre sono bambini piccoli oggi di solito diciamo che i bambini sono più grandi sono quelli delle scuole elementari però questo per noi è un piacere è un piacere vedere il sorriso sentirli felici quindi per noi è un piacere. Una visita guidata in cui i bambini hanno potuto girare per tutta la caserma dai garage agli spazi esterni dove avvengono tutte le movimentazioni dei mezzi una mattinata educativa e divertente che ha raccolto i sorrisi non solo dei più piccoli ma anche dei genitori. I bambini oggi sono contentissimi di poter vedere i camion sentire le sirene e per noi del villaggio per crescere è importante offrire alle famiglie e ai bambini queste opportunità e non soltanto all'interno dei nostri centri a Teieste ne abbiamo due uno a San Giacomo e una a Valmaura ma anche sul territorio per far sì che le famiglie scoprano tutte le opportunità che Trieste offre. Tra l'altro i vigili del fuoco sono stati gentilissimi che ci hanno accolti ci hanno ospitati e ci hanno permesso di visitare la caserma un'esperienza veramente bellissima. Domenica in Sala Luttazzi alle 9.45 con ingresso gratuito proiezione del docufilm Cent'anni e più di Sport Giuliano. Circa 400 atleti Cent'anni e più di Sport Giuliano sono riassunti in 120 minuti di docufilm realizzato da Dario Roccavini e presentato oggi assieme all'assessore allo sport Elisa Lodi per lanciare l'appuntamento di domenica 14 gennaio quando le 9.45 nella Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio sarà fruibile al pubblico. Due tempi di 60 minuti dove Roccavini ha messo assieme una gran quantità di discipline per raccontare le gesta di campionesse e campioni triestini ma anche istriani Fiumani e Dalmati che dal primo novecento ai giorni nostri hanno preso parte a Olimpiadi conquistando medaglie hanno vinto titoli mondiali europei, mediterranei e italiani conseguito titoli per Trieste pur non essendo originari della Venezia Giulia ma si sono distinti in alcuni sport in modo significativo l'ingresso alla proiezione del docufilm domenica mattina nella Sala Luttazzi è libero fino a esaurimento dei posti. Si tratta di una carrellata su tutti i grandi campioni triestini, istriani Fiumani e Dalmati che hanno onorato le nostre terre dal primo novecento ai giorni nostri in una cinquantina di discipline sportive sia atleti che atleta quindi è stato un lavoro ciclopico dentro ci sono ovviamente atleti purtroppo che non ci sono più altri che hanno concluso ormai le loro attività e poi ci sono gli ultimi campioni che stanno continuando a mettere allori e darci soddisfazioni è un docufilm che praticamente va a completamento dei precedenti cinque docufilm che io ho già fatto sulla storia della triestina della palacanestro a Trieste della ginnastica triestina degli sport di squadra in serie A a Trieste sugli eventi sempre del primo novecento ai giorni nostri perché questo a differenza degli altri per la prima volta affronta anche gli sport individuali e quindi sport individuali ovviamente i singoli atleti che hanno conquistato Alloni Chiudiamo questa edizione del telegiornale con il presepe il presepe è l'albero di Natale della nostra telespettatrice Dorina vi ricordo l'appuntamento alle 18 con Trieste in diretta 19.30 telegiornale 21.10 Ring di Natale di Natale di Natale Grazie per la visione!